do il benvenuto e il buonasera a Diego Armando Maradona Junior ciao ragazzi buonasera buonasera a tutti Diego ti chiamo Diego Diego Armando chiediamo prima questa cosa Diego 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 perfetto come va come stai sei collegato da casa tua bene sì sì sono collegato da casa mia in pieno relax come come qualcuno potrà vedere bene tutto bene grazie a Dio le cose vanno vanno bene benissimo allora mi viene da dire subito buon sangue non mente perché anche tu ovviamente anche per te il calcio è la passione della tua vita attualmente di cosa di cosa ti occupi ma io sono allenatore di calcio ho iniziato tre anni fa con ho fatto due anni con il Napoli United in eccellenza sfiorando la promozione il primo anno il secondo anno abbiamo avuto delle problematiche delle problematiche dal punto di vista economico quindi non è stato un anno che è andato che è andato a gonfie vele però poi dopo quest'anno è partito con il Pompei a dicembre la società ha deciso di cambiare di cambiare allenatore nonostante noi fossimo in piena lotta in piena lotta per 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 salire eravamo secondi a quattro punti dalla prima ma una scelta un po' strana però voglio dire la si accetta perché il calcio è fatto anche di queste cose assolutamente la prendiamo sportivamente allora facendo facendo un passo indietro andando a quando eri ragazzino io mi ricordo di te alla trasmissione campioni come è stata quell'esperienza ma guarda dal punto di vista umano è stata una un'esperienza che mi ha aiutato molto mi ha fatto conoscere tante persone tante tanti tanti amici con i quali condivido tutt'oggi una un grande rapporto come 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 marco pepe per esempio come come tanti come tanti altri dal punto di vista sportivo è normale che non lo rifarei mai perché è stato un qualcosa che mi ha un po' che mi ha un po' penalizzato no io ero contrattizzato con una società di serie b e andai a fare il reality lì in eccellenza sai scendere un attimo può risalire complicato l'hai nominato tu il tuo grande amico marco pepe che salutiamo e io ringrazio perché devo a lui il merito di questa intervista è stato tanto caro a metterci in in contatto marco se ci sta ascoltando ti mandiamo i saluti da radio pestum diego marco è una persona la persona la quale ci tengo molto ragazzo tra l'altro sono anche il suo il suo testimone di nozze quindi abbiamo un'amicizia che ci lega da ormai quasi vent'anni quindi è un ragazzo per bene un ragazzo a cui voglio bene quindi è un ragazzo d'oro si vede anche vedo spesso pubblicati sui social le vostre le vostre foto si vede che una bella amicizia sincera sì 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 assolutamente ritornando a te diego il calcio è stata da sempre la tua più grande passione cioè si fin da bambino sì 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 io il calcio è stato sempre il il motivo della 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 mia vita ho fatto le giovanili con il napoli ho giocato ho giocato tra 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 serie di eccellenza tutta la mia carriera poi ho iniziato la carriera d'allenatore sì comunque in realtà il calcio occupa la maggior parte del mio tempo bene si parla spesso sempre di giovani e sport che messaggio vuoi dare i giovani al di là del calcio quanto è importante per i giovani intraprendere uno sport guarda per i giovani è fondamentale intraprendere un percorso sportivo perché come come ben sai lo sport ti forma non solo fisicamente e ti fa stare meglio fisicamente e ti forma anche a livello a livello umano però io quello che dico sempre ai 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 giovani è quello di di non farsi confondere con la storia dell'esempio del campione esempio noi abbiamo a casa nostra i nostri genitori ed è giusto che i nostri genitori siano il nostro esempio e i nostri e i nostri campioni e amare e adorare i giocatori perché tutti abbiamo amato e adorato qualche calciatore solo per quello che fa in campo quindi non prendere non prendere troppo poi sul serio ciò che ciò che succede ai calciatori fuori dal campo se questa cosa la dici tu voglio dire che hai avuto un grandissimo a prescindere a prescindere mio padre per me è stato è stato esempio dal punto di vista umano dal punto di vista di quello che che ho imparato ovviamente io ho vissuto la maggior parte della mia vita con mia mamma poi quando ho avuto l'opportunità di stare con mio padre mio padre già non giocava più a calcio quindi io sono sono stato formato anche da lui anche se già ero un uomo formato perché mi sono ria pacificato con mio padre ci avevo 29 anni comunque lui mi ha formato anche soprattutto dal punto di vista umano quindi è molto importante secondo me far passare questo questo messaggio che i nostri esempi ce li abbiamo in casa infatti sarebbe stata la domanda successiva cioè è un po' impossibile soprattutto per me che la prima volta fare un'intervista a te e non dover parlare di lui un emblema un dio una leggenda come è stato e com'è come è stato essere figlio del grande diego armando maragliano ma guarda è sempre stato è sempre stato bello è sempre stato un grande un grande privilegio è sempre stato un grande orgoglio è sempre stato questo che ti ho detto è anche stato complicato perché ci sono stati dei momenti difficili ci sono stati dei momenti dove 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 ho desiderato essere un ragazzo normale anche perché io mi sono sempre sentito un ragazzo normale non sono una normale sono un ragazzo normalissimo però sai però a volte per qualcuno non lo sono proprio proprio normale però però sono stato sono 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 stato sono e sarò sempre orgoglioso di poter rappresentare nel mio piccolo quello che poi era papà tu l'hai conosciuto per la prima volta a 17 anni se non mi sbaglio come è stato quell'incontro no no fu bello fu emozionante io ero un ragazzino un ragazzino in cerca di 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 tante risposte lui era un uomo che non era in quel momento non era non era nel suo miglior momento quindi diciamo che fu ci 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 conoscemmo ci salutammo ma poi dopo finì la e ad oggi per quelle l'hai detto anche prima non è stato sempre facile essere suo figlio per le mancanze che magari ha potuto avere nei tuoi confronti ad oggi ti senti di averlo perdonato provi ancora del del rancore no 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 ma il rancore già da sono già vari anni che oramai non provo più non provavo più rancore per lui ti assicuro che che essere diego armando maradona non è stato semplice neanche per lui assolutamente lo credo quindi quindi assolutamente non sono nessuno per giudicare la vita degli altri le scelte soprattutto di vita personale lui lui sapeva di di aver sbagliato ma nel senso c'è penso che parliamo del nulla perché chi è che in questa vita non sbaglia cioè non nessuno è per è perfetto nessuno sbaglia nessuno fa fa tutto bene normale che lui ha fatto degli errori se ne è assunto sempre la responsabilità questo questo va detto no perché ci sono anche tante persone ci sono anche tante tanti uomini e tante donne che sbagliano e non si assumono mai le proprie responsabilità mio padre è stato sempre uno in grado di saper chiedere scusa e pochi gli hanno chiesto scusa a lui però di tutte le cose che che gli hanno fatto quindi alla fine io non provo assolutamente rancore anzi io ho sempre avuto una una grande comprensione bene stiamo parlando di storie di vita un aneddoto non legato per forza a tuo padre ma della tua un aneddoto bello della tua vita ma guarda io nella mia vita non mi leggo tanto ad aneddoti io ti leggo io mi leggo tanto ai ai periodi felici che ho avuto no sicuramente con lui ho vissuto un periodo felice la mia infanzia è stata un'infanzia felice la mia adolescenza con tutte le problematiche che comunque può avere un adolescente è stata un'adolescenza bella ricca di belle cose io non mi posso lamentare io ho avuto una ad oggi una vita bella piena di sacrifici perché sono un ragazzo che lavora da quando aveva 18 anni mi leggo ai bei momenti sicuramente quando quando abbiamo quando mi sono riappacificato con mio padre ho vissuto un momento molto felice della mia vita immagino immagino ad oggi anche tu sei papà di due bambini giusto Diego? Diego è India che papà sei? ma questo è difficile rispondere è la domanda più difficile un papà che sbaglia come tutti i papà eh vabbè quindi un papà normalissimo un papà normale un papà che prova ad essere presente al cento per cento un papà che prova a non fargli mancare niente è un papà che 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 prova a dare il meglio ai propri figli poi dopo sai ti ripeto siamo su questa su questa terra sbagliamo tutti quindi assolutamente qualche errore lo farò anch'io sei grande e per il tuo futuro cosa sogni? oppure progetti anche a breve termine? stai lavorando? no io voglio continuare io voglio continuare a fare l'allenatore studio mi aggiorno faccio tutto quello che che devo fare è normale un sogno un sogno è comunque allargare la famiglia poter avere poter avere almeno un altro figlio perché è una cosa che desideriamo molto e il resto va bene così io fino a quando fino a quando i miei figli si svegliano con con il sorriso e si riaddormentano con il sorriso per me va bene tutto grandissimo Diego purtroppo le interviste radiofoniche sono sempre ahimè troppo brevi perché gli spazi questi sono già mi stanno facendo segni dalla regia che purtroppo dobbiamo tagliare però lasciamoci con una promessa che quando sarai qui in zona insieme a Marco magari passate insieme in studio qui a Radio Pestum va bene questo è una promessa questa è sicuramente una una promessa speriamo di vederci presto grazie mi dicono dalla regia che il Carmine il proprietario di Radio Pestum ha giocato a calcetto con Marco ha giocato ah con lui con te ha giocato a calcetto e che anni era? però lo saluto ti saluta la regia è contentissimo che l'hai salutato Diego grazie mille grazie davvero per questo regalo e questa intervista a presto grazie a voi grazie buona serata grazie